Io sono Carletti Roberto e vengo da Spoleto in Umbria. Sono venuto qui per fare delle cure dentali. Avevamo fatto un giro tra i dentisti italiani, però non ci convinceva, oltre al fatto che il prezzo era anche parecchio più alto, ma non ci convinceva il tutto perché estendo lì in città oppure vicino, bisognava tornare molte volte, fare una cosa un pezzetto alla volta, diventava molto pesante. Poi mio figlio ha fatto una ricerca tra gli amici e in internet e tra tutti abbiamo scelto quella che ci dava più affidamento, era la vostra clinica e non ci siamo pentiti. I nuovi denti sono solo due giorni che li ho fissi, però già quasi sembrano come i miei. Ho provato a mangiare, ho mangiato benissimo. Anzi, lo devo un po' frenare perché sennò lui farebbe proprio strappere i baby stick. Abbiamo mandato foto ai miei figli e anche agli amici, tra l'altro, e tutti sono rimasti malordini come ce l'avevo, insomma, con i nuovi denti, molto belli. Eh beh, l'aspetto è molto migliore. Penso che sia ottimo, non avremmo potuto sperare di meglio, anche perché ci si sente molto bene. La clinica è perfetta, la clinica tra pulizia, professionalità, non potrei dire di tutto di più, perfetta. Anche la città abbiamo trovato molto accogliente. L'altra volta c'era un ristorante dove andavamo sempre a mangiare e ci trovavamo benissimo. Stavolta ci siamo dovute in giro un po' per tutti i ristoranti di Tirana e ci siamo trovati, dove più, dove meno, sempre bene. Si mangia bene, siete tutti molto accoglienti, tutto. Noi ci siamo trovati bene, non possiamo dire niente. Noi ci siamo trovati bene. Grazie.